molti di noi ha pubblicato dei video sui social e questa sera faremo un'altra sfida quindi preparatevi perché sarà un'altra serata bella quindi se avete delle domande vi consiglio di iscriverle perché poi alla fine le regrupperemo credo che buona parte di questo sarà funzionale se voi fate più domande possibile alla fine perché il vero è che io vi dirò degli input però molte cose che magari non avete capito o che io sono sicuro perché credo che oggi vedere un bambino che sfoglia il cellulare con quella facilità come apre le app come apre tutto vuol dire che davvero siamo in una facilità di cose intuitissime da capire e credo che ognuno di noi molte cose anche se le sbaglia sa che le sbaglia e quindi quelle cose che voi sapete che sbagliate o comunque sia che avete dei dubbi ce le richiederete ci confronteremo e vedremo di andare diciamo subito al solo bene allora questo è un workshop chiamolo così molto base nel senso che non è nessun tipo di diciamo non vi rilascerà nessun attestato finale quindi non siete laureati in social media manager sicuramente però vi darà sicuramente un'infarinatura di tutto quello che può oggi essere diciamo comunicato in maniera eccellente attraverso i social e appunto l'importanza dei social prima di andare al dunque vi voglio subito dire chi è la mia persona che forgia la mia pazienza in questo eccola qui la faccio subito vedere è mia moglie ciao è lei che diciamo forgia la mia pazienza e mi spinge a studiare a cercare come fare meglio cioè è lei che mi io sono qui per suggerire quindi in caso sì sì mi suggerirà diciamo di ciao ok a parte lo scherzo diciamo come l'alfa e l'omega sui social siamo qui a casa mia casa di Giovanna l'alfa e l'omega io sono l'alfa mia moglie l'omega quindi il principio è la fine ma l'avvento la fine mia moglie è la fine diciamo della comunicazione sta imparando sta imparando sì a rompere ah parentesi mia moglie ha un record di un iphone 6 valore di 6.000 euro perché ha rotto circa 100 schermi e quindi diciamo se dovessi rivenderlo dovrei vendere a me perché tutti gli schermi che ha rotto diciamo vabbè chi non rompe gli schermi nel 2020 vabbè detto questo andiamo subito al sodo il titolo del workshop che era appunto semplicemente social networks ha a che fare con il sottotitolo perché il sottotitolo è impariamo ad usarli ed a utilizzarli poi penserete che usare utilizzare siano diciamo dei sinonimi ma non è affatto così perché utilizzare a differenza del termine semplice dell'uso è usare con utilità quindi semplicemente nella parola utilizzo c'è proprio diciamo la spiegazione di quello che è appunto il concetto quindi noi stiamo usando i social o li stiamo utilizzando mi veniva subito l'esempio della penna una penna può essere usata per mia moglie la usa per metterla in mezzo i capelli diciamo e farla diventare una riccia spiccia come diceva la sirenetta ok quella la sta usando però la penna va utilizzata per scrivere ok quindi c'è da capire se noi i social li stiamo usando giusto perché li abbiamo siamo iscritti oppure li utilizziamo perché realmente li usiamo in maniera utile e vi voglio dire una cosa credo seriamente veramente sinceramente con il corpo e con la mente che se oggi Gesù cioè se oggi Dio avesse deciso di soltanto oggi si è aperto il microfono chi sei è ok se Dio avesse soltanto oggi deciso nel 2020 di mandare Gesù sulla terra e diciamo far adempiere a Gesù quella fantastica missione di 2000 anni fa credo che c'era tra i 12 sicuramente c'era qualcuno che era sicuramente addetto alla comunicazione e alla parte social poi immaginate all'epoca Gesù che faceva i miracoli immaginatevi voi la resurrezione di Lazzaro se lì ci fosse stato qualcuno che faceva una stories e avrebbe detto Lazzaro alzati e cammina e lì c'era la stories con le gif piuttosto che che posso dire la diretta immaginatevi voi la diretta di Lazzaro che veniva resuscitato e c'era questo Lazzaro che veniva e soprattutto immaginatevi quante condivisioni avrebbe avuto questo video e quanto Scalpore avrebbe fatto questo video ma questo per dirvi semplicemente che lo dico a chi oggi non ha Facebook e Instagram o chi ce l'ha e lo sta in qualche modo demonizzando lo usiamo questo termine in maniera diciamo molto virgolettato io sono sicuro al 100% non è scritto da nessuna parte ma ne sono sicuro Dio che è l'inventore della comunicazione della parola e di tutto ciò che appunto diciamo usa la Bibbia usa la parola per comunicare lui stesso è verbo lui stesso è parola perché non doveva oggi avere un profilo Facebook o un profilo social per comunicare in maniera diciamo quotidiana la sua vita quello che lui stesso avrebbe fatto e quindi fa detto questo cosa sono i social network la cosa interessante di questa cosa che potrebbe sembrare strana i social network sono gratuiti cioè una cosa stranissima che per la potenza e per la funzione che svolgono sia a livello diciamo personale quindi nostro come singoli sia a livello aziendale inteso anche come chiesa aziendale nel senso diciamo l'azienda vende un prodotto la chiesa vende la salvezza vende sempre tra virgolette quindi concedetemi termini un po' diciamo che hanno a che fare con l'economico non vi permettere mai di attribuire diciamo al Vangelo la parola vendita però dico capite bene che realmente noi vendiamo tra virgolette la salvezza e lo vendiamo bene e facilmente attraverso un mezzo che è gratuito che non dobbiamo fare nessun tipo di iscrizione nessun tipo di diciamo di abbonamento perché sono gratis ovviamente c'è chi guadagna attraverso questo adesso lo andiamo a vedere quindi gli utenti quindi adesso noi parleremo però noi parliamo innanzitutto parliamo dell'aspetto singolo perché noi oggi non impariamo oggi questo non è un workshop che è indirizzato alle chiese quindi alla parte miglia delle chiese ma questo è proprio indirizzato proprio a noi come cristiani come figli di Dio e come persone che usano i social network quindi come hai detto amore singolarmente ecco mi è suggerito singolarmente benissimo ok quindi cosa fanno gli utenti che usano i social appunto molto banalmente creano il proprio profilo personale quindi subito vi dico che chi si appresta crea un profilo personale e la cosa che non è scontata ma ogni persona ognuno di noi che crea il proprio profilo personale si organizza e si crea attorno a sé una lista di persone con la quale rimanere in contatto cioè non è che la gente cioè sei tu che decidi con quale persone interagire e a quali persone far vedere quello che tu sei fai e vuoi e fin dove vuoi diciamo mettere pubblica la tua vita quindi dopo che diciamo decidi con chi fare questo pubblichi appunto il proprio flusso di aggiornamenti quindi sei tu appunto che decidi i contenuti che vuoi comunicare e decidi tu stesso cosa fantastica decidi tu se vuoi farti affare degli altri cioè sei tu che decidi se vuoi andare nella pagina degli altri anche se negli ultimi anni le home le home home inteso come casa inteso come quella parte dei social che far vedere tutti gli aggiornamenti degli alti profili tuoi amici ti permettono in qualche modo in maniera come dire istantanea di andare a farti a fare degli altri che ripeto potremmo entrare sul nostro profilo facebook e rimanere sulla nostra bacheca personale è limitarci a condividere sul nostro profilo e interagire con le persone che commentano i nostri contenuti ma questo lo vediamo in un secondo momento questo per dirvi che la home non è del diavolo la home è del diavolo se tu lo vai scrolli continuamente la home perché vuoi andarti a fare dei gatti perché a volte nella home e soprattutto su facebook puoi trovare delle notizie interessanti puoi trovare delle notizie che hanno a che fare sulla situazione attuale sulla situazione politica puoi trovare e questo è il dilemma degli ultimi anni forse gli ultimi mesi soprattutto le fake news perché attenzione che nella home di facebook che si differenzia da quella di instagram questo lo vedremo è più facile imbattersi in una fake news rispetto ad altri social o rispetto ad altri diciamo mezzi di comunicazione quindi diciamo che il principale contenitore il luogo dove esistono le fake news è la home di facebook questo già ve lo dico chiaramente lì è dove infatti molte persone hanno deciso e decidono di eliminarsi di togliersi da facebook perché è un luogo davvero dove lì è più facile imbattersi ma non è un problema perché è facile ma questo lo posso spiegare anche dopo come riconoscere o meno una fake news molto semplice e molto diciamo appunto facile altra cosa noi se pensiamo ai social network pensiamo sicuramente ad un'invasione della nostra privacy i social network per quel che vuol dire privacy perché oggi ragazzi non esiste davvero una completa ai me ai noi e ai tutti non esiste una completa e vera privacy di quello che noi oggi facciamo in società perché partendo dalla classica tessera dell'essere lunga dove tu quando vai a fare la spesa noi la vediamo come una raccolta punti che va bene io non voglio demonizzare la tessera dell'essere lunga ce l'ho pure io quindi mi becco gli sconti e mi becco anche i premi quando vado a fare la spesa ma il punto è che quando noi andiamo a fare la spesa e andiamo in cassa se io ho registrato la mia tessera con il mio nome e cognome data di nascita residenza via e tutto che non c'è niente di male e io vado a fare la spesa l'essere lunga sa quello che io mangio sa quanto io ne compro sa quando quando lo compro se ho del se sono più propenso alle offerte di un certo tipo di prodotto o meno io per dire io ma per dire una quantità di persone quindi è ovvio che da lì noi siamo completamente controllati ma questo è l'esempio della tessera dell'essere lunga potremmo parlare anche del classico gps del telefonino io sono come dire sconvolto a volte di come a volte parlo di argomenti di un prodotto che possa essere un iphone piuttosto che una una motosega diciamo un tagliaerba e dopo apro il cellulare e tra le sponsorizzazioni che spuntano diciamo nella home di facebook di instagram mi spunta se c'è l'offerta da brico e vettelo a comprare ma come è come se veramente ti ascolta ma perché i nostri telefonini hanno dei microfoni hanno delle telecamere quindi questo è soltanto un esempio ma giusto per dirvi che la paura di essere diciamo che la nostra privacy venga invasa attraverso i social è l'ultima dovrebbe essere l'ultima delle paure perché a differenza di tutto il resto su facebook e su instagram tu hai il controllo di quello che vuoi far vedere di quello che vuoi mettere diciamo alla merce di tutti diciamo così in altri casi capita che non hai assolutamente il controllo di niente e quindi lì ci mettiamo nelle mani diciamo sia del garante della privacy sia diciamo del buon dio che non ci che tutelizzo intorno la nostra vita però a prescindere questo realmente non è un problema di privacy i social sono un problema di privacy se tu non metti e non dai le giuste impostazioni alla privacy del tuo profilo social leggendo un po' di libri che hanno a che fare libri che ho letto due sui social e più sulla pratica la parte importante che noi diciamo un po' sottravalutiamo è il congetto di reputation la reputation sui social ha a che fare davvero con con la nostra immagine parallela a quella dei social cioè la nostra persona traslata sui social perché oggi le aziende le persone che vogliono avere un approccio con noi per la prima volta che non ci conoscono la prima cosa che fanno e andare a vedere il tuo profilo social questo lo fanno già tante aziende prima di farti un colloquio di lavoro quando vedono sul proprio sulla propria scrivania direttore personale vede il tuo curriculum molte aziende oggi dicono aspetta questa persona sì carina laureata 110 e lode ottime referenze un buon curriculum ma se poi nella vita e quindi sui social è un nazista è un non lo so un volgare o addirittura dai post diciamo si inalbera facilmente ad un commento cioè da lì si possono anche denotare degli aspetti negativi per la non assunzione quindi i social sono davvero lo specchio di quello che siamo e adesso andiamo nel vivo appunto del del noi cristiano ok in America immaginate questo ho letto un articolo cercando qualche settimana fa qualcosa del genere ho letto che in America quando entri in America oltre a dare diciamo la residenza la via dove abiti e tutto devi anche dare i tuoi profili social se non proprio a caso vi mando questo articolo che è di Repubblica quindi non è una fake news nemmeno proprio dice ok dammi anche i tuoi non gli accessi attenzione per entrare sui profili ma dimmi come ti chiami su Facebook come ti chiami su Instagram altra cosa questo che non c'entra niente ma io diciamo mentre che parlo mi vengono diciamo degli argomenti vari un consiglio che vi do anche io ricordo il pastore Delia che aveva una mail tempo fa che era non mi ricordo se era Crazy Warrior una cosa del genere ah ce l'ha ancora sì però realmente voi immaginate il pastore Delia ok che è una guerriera pazza e su questo diciamo folle diciamo così e nessuno può metterlo in dubbio sulle spedotti insomma follie folli diciamo di vivere il cristianesimo però se oggi dovesse andare alla 2A a firmare il contratto per la chiesa per la tua mail eh sì Crazy Warrior chiocciola scusi ok invece Delia Tuminello chiocciola gmail.com sicuramente già dà un'immagine diciamo un po' diversa questo dice ma che c'entra c'entra perché dalla mail al al chiamarsi su facebook fragolino 86 adesso ricordo il film di Cacco Zalone come di Cacco Zalone piuttosto che altri diciamo nickname strani sicuramente diciamo oggi ecco non siamo più oggi noi siamo nella responsabilità di essere anche professionali che non vuol dire essere inquadrati vuol dire presentarsi in un modo normale e comunicativamente diciamo accettabile anche a livello sociale non esiste una regola precisa su come gestire questo lo dico subito non c'è una regola su come gestire una pagina facebook una pagina instagram ci potrebbero essere tanti manuali che potrebbero racchiudere tutto quello che sto per dire che tra l'altro su ogni cosa che dico possiamo aprire davvero delle maglie immense quindi sicuramente in un oretto non riusciremo a fare tutto questo però vi dico che non c'è appunto un manuale su come gestire una pagina un profilo facebook ma tutto sta sicuramente c'è un manuale se tu decidi a quale target vuoi rivolgerti esempio la chiesa in generale si rivolge principalmente a un target cioè lo scopo della chiesa è rivolgersi a un target di non cristiani perché se noi diciamo ci rivolgiamo a noi stessi sarebbe diciamo come dire molto molto mi dispiace per Carol e per tutto il team media di Milano che si fa davvero che sta facendo un lavoro in mano anche in questo tempo non lo fa per noi lo fa anche per noi ma principalmente lo fa per la gente che vuole conoscere Dio attraverso diciamo appunto questi social quindi una volta che si individua il target quindi nel nostro diciamo caso il nostro target è tale e quale a quello della chiesa quello appunto di andare a comunicare a persone che non conoscono Dio che non hanno nemmeno detto cioè io posso rivolgermi a persone che non conoscono Dio ma posso rivolgermi appunto anche a voi perché mi piace insieme a voi condividere degli argomenti che hanno a che fare con politica salute e tutto il resto giusto per darvi un numero non voglio fare non è un riferimento diciamo prettamente di schieramento politico ma giusto perché ha messo il record Salvini ha speso 255 mila euro sui social per le sue ultime campagne questo non è un dato inventato ma se andate sulla pagina di Salvini non cliccate il like perché non c'è bisogno per noi sulla pagina di Salvini adesso Facebook ti dà la possibilità di vedere per trasparenza e per questo Facebook è davvero giustamente c'è chi fa il mazzo se sbaglia ma sicuramente ogni pagina Facebook c'è la possibilità di cliccare la i di info da qualche parte poi spulcate un attimo e vedete quanto ogni personaggio pubblico spende per le proprie visualizzazioni faccio un passo indietro cosa vuol dire questo vuol dire che tu puoi acquistare e puoi avere visibilità su Facebook perché Facebook come campa come come che Mark Zucker è il quarto più ricco del mondo cioè un ragazzo di 30 anni è il quarto più ricco del mondo cioè ci sarà un motivo come campa Facebook Facebook vive e si finanzia dalle persone che mettono la propria azienda sui social quindi i propri brand la propria chiesa anche perché se io voglio fare un evento a Brescia e Sabat Brescia decide di fare un evento io ho due strade da percorrere o stampo 3000 volantini mi faccio diciamo davvero in quattro per andare nelle strade a fare volantinaggio mettere nel cassetto della posta sotto la pioggia oppure e spendo ad esempio 100 euro di volantini oppure spendo 100 euro di visibilità del mio evento soltanto a Brescia cioè io decido di far vedere quel post o quel contenuto lo circoscrivo dentro Brescia e provincia quindi tutte le home delle persone iscritte a facebook o a instagram che si trovano a Brescia e quindi che hanno messo nelle proprie diciamo informazioni che sono residenti a Brescia vedranno nella home l'evento che Sabat Brescia sta organizzando posso anche perfezionare questa ricerca posso mettere anche l'età quindi io dico per esempio faccio un evento per i ragazzi quindi io metto dai 16 ai 30 anni tutte le persone che sono a Brescia che sono con questa età e che gli piace la musica la musica dance la discoteca vi faccio un esempio devi far vedere questo post ovviamente se fai un evento che ha a che fare con la musica dance o con un evento evangelistico con un certo tipo di target quindi per dire che appunto c'è chi spende 100 euro ma io sto parlando appunto per farvi un esempio mostruoso di come un personaggio pubblico un politico per fare la propria campagna elettorale per invadere social e per bombardare di idee di concetti di cose spenda 255 mila euro cioè mezzo miliardo di vecchia lire per fare una pubblicità diciamo di circa il periodo poi è ovvio che ci sono diciamo chi ha più follower chi ne ha di meno chi ne ha di più anche questo è motivo diciamo perché se tu me lo bombardavi tutti i giorni non voglio aprire nessun tipo di polemica però diciamo è così sicuramente si possa fare un buon uso dei social oltre alla qualità anche in termini di tempo perché vero è che il tempo dedicato sui social come dire se lo utilizziamo in ora l'iPhone non so Android ma il mio iPhone mi dà il resoconto settimanale di quanto io sto sui social è mostruoso come si è cresciuto da quando io sono in quarantena ovviamente perché stando a casa stando diciamo costretti a fare questo non dico fare questo ma anche cioè fare questo su Instagram con le dirette con poi se sul divano non puoi uscire ti fai una scrollata sulla home e ti fai un po' gli affari degli altri detto proprio in maniera simpatica allora realmente c'è questa possibilità però il tempo non c'è come dire io non voglio come dire dare una una soluzione al tempo impiegato però sicuramente stare troppo sui social non fa bene ma non fa bene non perché i social non vanno bene ma perché più tempo sei sui social e più puoi essere influenzato da altri non è che io dico che noi abbiamo questo abbiamo anche il rischio di essere influenzati ma il il miglior rischio che possiamo correre è che noi stessi influenziamo gli altri ecco perché voglio prendere spunto da la nostra amica Veronica Locascio che tutti voi conoscete che in molte stories e molte cose lei dice una cosa che spesso lo dice ma una cosa simpatica ma realmente è vero lei si reputa un influencer for Jesus lei è così influencer for Jesus ma realmente è quello che ognuno di noi davvero dovrebbe essere cioè non è un problema essere un influencer perché cosa vuol dire influencer influencer vuol dire che se io pubblico dei contenuti dei post delle canzoni delle frasi delle foto dei commenti è ovvio che io posso influenzare negativamente oppositamente sta tutto a me come devo influenzare e devo dirvi qualcosa che ovviamente la nostra e quindi torno ai nostri profili personali i nostri profili personali di molti di noi cristiani e qui entro un po' nel diciamo nel check up dei nostri profili sembrano i profili di chiese i nostri profili non sono delle chiese ma devono avere un linguaggio e dei contenuti che possono influenzare con contenuti sicuramente che hanno a che fare con Gesù e con Dio non è che pubblicare un intero profilo con mille immagini di versetti con le colombe o pubblicare 500 prediche uno dopo l'altro o pubblicare 300 studi uno dopo l'altro o le testimonianze di altre persone può farci vedere che noi siamo dei cristiani e quindi ok ci può essere questa possibilità e deve essere fatto ma ecco che subendo e questo è sottile come ragionamento se io come dire una mattina mi vado a fare una corsetta faccio un esempio e voglio pubblicare la mia foto di un tramonto meraviglioso dove scrivo che meraviglia questo tramonto stamattina mi sono svegliato e ho fatto la corsetta ma che ben venga perché vuol dire che noi stiamo influenzando anche in maniera positiva anche con quello che viviamo con quello che siamo quindi attenzione a non bombardare necessariamente i nostri profili con contenuti cioè anche quello anzi soprattutto quello ma non non solo quello non so se mi capite in questo ragionamento giusto perché voglio prendere dei profili e oggi il mio la mia cavia ma in senso positivo è il pastore Delia in questi giorni in maniera fantastica il pastore Delia ha pubblicato delle foto carine del mare della Sicilia e cose varie no? dico ma che meraviglia ma che meraviglia cioè dico ma ecco che like il pastore Delia che si auto mette si auto like dico lo capite anzi ecco parentesi non mettete mai il like alle vostre cose che pubblicate questo lo dico subito perché diciamo attenzione perché è sionimo di egocentrismo fanatismo stupidaggine allegoria diciamo stupida ecco non lo fate non lo fate perché è come se dico Dio è buono e mi piace ok lo so se lo dici ti piace non so che ti piace dico fai in modo che gli altri possano mettere il tuo mi piace quindi per dire pubblicare cose che non sono non vuol dire mettere come dire in pubblico la propria privacy perché il pastore Delia non ha pubblicato una foto di un ragazzo che la stava corteggiando o di un che ne so o di qualsiasi cosa diciamo intima no no oppure sicuramente ha pubblicato delle foto belle che io che non conosco Dio ma so che lei è un pastore la prima cosa che mi viene da pensare guarda questa donna meravigliosa bella affascinante carina che è oltre ad essere un pastore va pure in vacanza è una persona normale cioè oppure gli piace il mare come me quindi la voglio corteggiare per esempio e quindi da lì scattano anche i meccanismi insomma di corteggiamento perché vi dico un'altra cosa sui social si possono trovare anche non dico i fidanzati ma i primi approcci vabbè questo poi lo vediamo in un altro momento lo so parentesi una volta io per conquistare mia moglie mentre eravamo lasciati io non ho mai avuto profili falsi mai tranne una volta mi sono creato una mail falsa un profilo falso tutto falso amici in comune false e io mi chiamavo come si chiamava insomma una certa insomma un nome tipico siciliano ho detto ciao Graziella sono X non mi ricordo volevo chiederti ma tu per caso ti stai ancora frequentando con noi perché a me piace da morire e vorrei fargli capire che voglio uscire con lui ma ti avrebbe fastidio io volevo capire se lei diceva come ti permetti lascia lo sparo e se no lei mi ha risposto dicendomi fai quello che vuoi è tutto tuo vabbè quindi cancello il profilo ok una frase che mi piace che ho scritto poco fa è questo i social sono l'unico posto nel quale devi comunicare in modo più semplice e naturale possibile per comunicare la grandezza e il suo naturale di Dio ve lo ripeto i social sono l'unico posto nel quale devi comunicare molto semplicemente e in maniera così naturale perché affinché tu possa comunicare la grandezza e il suo naturale di Dio questo è chiaro come concetto questo annuito meraviglia andiamo adesso nello specifico la madre anzi il padre dei social network oggi è facebook molti pensano che facebook stia andando in pensione perché sta per essere sostituito da instagram questa cosa è vera a metà perché facebook non è che sta andando in pensione facebook è un pubblico più da pensione diciamo così facebook è un pubblico un po' più adulto perché i ragazzi preferiscono semplicemente farsi vedere fare delle belle foto condividerle e prendere like e commenti punto per questo vai soltanto su instagram perché su instagram non puoi condividere musica quindi canzoni da youtube non puoi condividere notizie puoi soltanto dare notizie attraverso un post una foto che addirittura adesso io parlo in maniera scontata alcuni concetti poi voi scrivete casomai mi dite dopo addirittura non c'è nemmeno la possibilità nel post della foto pubblicata con la notizia o con il link di cliccare devi sempre mettere la parolina link in mio cioè ti porta sempre alla biografia del tuo profilo perché non riesci mai a cliccare sulla foto perché sarebbe il top perché quello lì lo fa facebook quindi siccome facebook e instagram sono della stessa persona si crea quella concorrenza piacevole perché diciamo è così è geniale a modo suo quindi ok quindi facebook a differenza di instagram è un po' più social perché ha a che fare appunto con cose un po' più da da condivisione instagram è un po' più da foto carina ecco instagram nasce per la pubblicazione di foto non nasce per la condivisione di contenuti di notizie nasce solo per condividere le foto oggi instagram perché ha preso diciamo ha superato in qualche modo o almeno apparentemente facebook perché realmente è un pubblico che va dai 16 anni ai 30 anni ecco mio padre ce l'ha ma mio padre va su instagram ma solo perché a volte dico guarda cosa c'è ma non va lui il primo impatto va subito su facebook e c'è la concezione di facebook anche come per lavorare anche un'altra cosa importante facebook diventa quasi sostituisce quasi il blog cioè puoi raggruppare dei contenuti in un album e ha lo scopo anche di archiviarli perché se noi abbiamo un album di una vacanza fatta tre anni fa e andiamo a prendere l'album di quella vacanza lì ce ne possiamo ricordare mentre instagram che è molto più limitato in questo devi scrollare sempre voi immaginatevi quindi diciamo la la piattaforma di instagram dove lì non c'è appunto la possibilità di raggruppare devi cercarli proprio i contenuti la differenza tra profilo e pagina attenzione tutti noi dovremmo aprire o meglio dovremmo aprire dovremmo avere dei profili perché siamo persone quindi profili privati di persone private cioè noi siamo delle persone singole il pastore Rosalene così anche altri pastori o altri ministri o altre o altre persone hanno anche delle pagine le pagine rappresentano la parte più più istituzionale e meno privata ok il pastore Rosalene tempo fa ricordo che avevo consigliato a tutti i pastori di farsi la propria pagina perché una cosa è la vita privata appunto dove tu vuoi condividere la vita privata una cosa è dove tu realmente lì come dicevo poco fa tu sicuramente nel profilo pubblichi la vacanza la canzoncina la predica quello che vuoi è ovvio che se poi tu sei un pastore e hai la tua pagina personale lì e quindi aziendale diciamo così lì puoi gestirla come se fosse appunto quello che tu fai nella vita se sei un pastore anche se io ricordo il pastore Julim di qualche anno fa che gli avevano in me il facebook e i social è il pulpito diciamo degli stupidi ma che è vero perché lì poi ci sono tutti i sapientoni che pubblicano quei post quelle cose ma più che per evangelizzare o per conquistare lo fanno proprio per attaccare per imporre delle idee delle cose quindi lui scherzosamente pubblicava a volte dei post dicendo oggi ho mangiato patatine fritte con che c'è maionese punto e aveva mille like mille condivisioni wow per dire che la semplicità delle cose era più un senso diciamo di protesta vabbè questa è un'altra cosa adesso andiamo ai contenuti specifici contenuti specifici in ordine di gerarchia e di visibilità questo lo dico chiaramente in maniera quindi scrivetevelo un post ha più visibilità in quest'ordine video foto testo ok se io pubblico un video ha più possibilità di essere visto rispetto ad una foto e una foto ha più possibilità di essere vista rispetto a un testo questa è la gerarchia di come facebook diciamo ti classifica nella visibilità dei tuoi contenuti ecco perché passò la cosa domenica è venuta questa idea di dire fate un video di un minuto e divertitevi con la vostra testimonianza però al di là di questo veramente la visibilità dei video vince sulle foto quando pubblichiamo un contenuto e questo lo voglio dire a tutti voi attenzione all'utilizzo di una cosa che tutti ne fate un uso un po' a volte superfluo a volte appunto fatto in maniera negativa cioè negativa che non va affatto in quel modo che sono gli hashtag improprio onorio cosa ho detto no no ti sto suggerendo la parola improprio meraviglia modo improprio cosa vuol dire questo come si pubblica un hashtag in maniera propria visto che il contrario è proprio si può dire Francesca propria ok come si in maniera appropriata appropiata grazie un hashtag che cosa è tanto un hashtag un hashtag è semplicemente un contenitore ok è un contenitore se io pubblico questa sera un post con la grafica dell'evento così come abbiamo fatto e io metto un hashtag tramonto non c'entra niente perché chi è appassionato di tramonti e cliccherà sull'hashtag tramonto si troverà anche il nostro post se invece mettiamo un hashtag che è social network comunicazione grafica facebook instagram è ovvio che chi magari un giorno si trova a cliccare questo hashtag qui ci troverà così come una delle cose che dovete sapere gli hashtag non nascono né da facebook né da instagram ma nascono da twitter ovviamente questo è un altro social che non ne parliamo perché non ha senso parlando perché non ci appartiene cioè che non ci può servire più di tanto però sappiate che quando si per esempio c'era l'hashtag dei più famosi era quello che si chiamava notav per esempio quando tu dovevi fare un post o un argomento che ricontro la tav e mettevi notav venivano fuori tutti gli argomenti e i posti sulla notav piuttosto che ovviamente l'hashtag jesus è l'hashtag più usato nel mondo cristiano o love o passion o church è ovvio che se tu sei in un'altra parte del mondo e clicchi l'hashtag perché poi sappiate che gli hashtag sono cliccabili cioè quando voi create un hashtag fatto bene che non si genera con il cancelletto la parola e il cancelletto cioè l'hashtag non si chiude con il cancelletto quelli sono fiocchi di neve che cadono su un post non esistono fiocchi di neve negli hashtag gli hashtag sono cancelletto parola che racchiude diciamo l'argomento e mettete quando ne volete è ovvio che riempire un post molti pensano che riempire un post con 300 hashtag ti dà più possibilità di essere visto vero a metà ma attenzione a mettere gli hashtag quelli giusti quelli che parlano davvero della foto altra cosa importante e quindi voi qua scrivete domande se avete poi domande su hashtag su post e quant'altro che sarà quello lì il pezzo bello del nostro incontro l'altra cosa importante ragazzi io penso che ognuno di noi sappia capire e differenziare le figure geometriche da un rettangolo e da un quadrato ok quadrato vuol dire quattro lati uguali che ad occhio si può capire quando è un quadrato un'immagine ok altra cosa è un rettangolo rettangolo vuol dire due lati in un modo e due in un altro modo cioè per esempio due lati lunghi e due lati corti il telefono ha una forma rettangolare se prendiamo la cipria di mia moglie che è quadrata non la prendere va beh è quadrata avete capito poi sembra che vi faccio dei tipo disegni tipo ecco no 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 lascia sta mamma va beh ecco la si stende questo qua è un quadrato ok ma voi sembra voi pensate ma sei scemo che vuoi farci capire tutti i costi no perché realmente è come se molti di noi davvero non hanno capito che quando si pubblica un post c'è la differenza tra il post quadrato che è per il post e la grafica rettangolare che è per le stories quindi ad occhio è semplicissimo quando vi arrivano quando siete bombardati da grafiche io so che in questo tempo a volte ci possiamo far prendere anche un po' dalla mano perché ci arrivano mille grafiche va bene quindi diciamo nell'incertezza la voglio pubblicare è figa e la pubblico bellissimo vabbè via pubblicata però realmente una cosa nasce perché ha una destinazione precisa i post quadrati quindi scusate le grafiche quadrate sono per i vostri post non sono per le stories io do per scontato il fatto che voi sappiate cosa signano le stories ma ve lo spiego le stories hanno preso negli ultimi un anno due anni davvero il sopravvento sul modo di comunicare perché sono delle cose fresche veloci che la gente piuttosto che andare nella home degli altri e fare gli affari degli altri e vedere col pollicino scodere verso l'arte vedere i post la musica gli piace vedere delle cose interattive che si muovono tant'è che infatti le stories più i gif ovviamente non tamarre come non riempite di gif però qualcosina carina che ti indica il post che ti mette un cerchietto che ti mette la faccina carina tipo che si strappa i capelli ci sono anche delle gif carine nelle stories questo qui ti dà la possibilità di non andare oltre la stories quindi le stories sono dei contenuti grafici all'interno dei vostri profili social che hanno la durata di 24 ore quindi voi non potete creare una stories con lo scopo di poi diventare il post che può essere rivisto fra due anni per quello c'è facebook ok quindi ogni cosa ha il proprio per questo dico io non è che facebook è morto e instagram è vivo ogni social ha la sua utilità c'è chi vuole archiviare vuole conservare vuole rivedersi vuole avere un profilo ordinato con dei post carini con degli aggruppamenti carini e c'è chi invece vuole comunicare velocemente eccetera eccetera andiamo sul avete visto voi Milano e a cascata le altre chiese come sta pubblicando in maniera diciamo chiamiamola mosaica dove vedete che più post formano qualcosa di grande vi ricordate il post Gesù l'Italia appartiene a Gesù questo post io di me puoi fare anche la condivisione dello schermo allora per chi non è molto pratico dei social hanno riescono a vederlo puoi entrare su instagram tu sei sul pc no? allora però siccome si però aspetta un attimo vediamo un attimo ok vado su Milano direttamente aspetta un attimo sì perché sei sul Milano e poi fai condividi schermo ok così gli fai vedere qual è la differenza tra la stories che dura esatto esatto più che altro per chi magari non è molto pratico di questi termini e ti c'è giusto ok vediamo se si sta prendo ok Milano eccolo qua allora come si faccio praticamente io faccio share screen esatto faccio desktop oppure safari fai no aspetta fai share screen poi fai advanced advanced sì lo vedi poi hai tre tre opzioni sì clicca sulla prima ragazzi posso dire che la lezione di zoom è meravigliosa sta cosa clicca lì e praticamente questo qua è il riquadro della porzione di schermo che avrai che puoi ingrandire o diminuire clicca sopra ci clicco fai share sotto option si non c'entra sotto sotto a destra aspetta che forse mi fa se no te lo faccio io share ok open system preference no però metto cancello allora aspetta rifacciamo da capo share screen poi vai advanced aspetta che forse ci sono aspetta che questo perché io col mac però lì lì è uguale ok ok quindi share ok fai share share poi mi dice open system preference mi fa praticamente voi non vedete niente giusto no? no e se io facessi share computer sound no aspetta no ah ok e quindi facciamo così però mi dà mi dà proprio il simbolo di errore quindi non me lo fa condividere Luca si sta divertendo con il fatto che il Mac non mi va con la nostra cosa fai una cosa past pubblica tu vai su stop out Milano vado io vado io dai aspetta tu mi continua a parlare che lo vedrai quando ci sono ok quindi stavo dicendo che su Instagram si può fare un discorso non di post singolo ma di post diciamo multiplo dove la la moltiplicità la molteplicità di post crea un'immagine più grande ma questo qua adesso però spiegarvelo così magari poi effettivamente ci sono ok allora vai questo è Milano ok vai più giù ebbè chiaramente nel pc perde non è come l'effetto però andiamo al post così quello che stavo parlando poco fa dell'Italia appartiene a Gesù così sappiamo cosa significa ok allora vedete questi tre post qua l'Italia appartiene a Gesù qui bisogna tornare bambini come si fa a capire qual è l'ordine è semplicissimo fare un semplicissimo puzzle e capire se io metto l'ultimo che c'è soltanto la nuvola lo vado a mettere come primo post e metto il primo al centro è un cielo in una stanza piuttosto che un cielo in cielo quindi diciamo realmente è semplicemente quindi come capire l'ordine quando noi mandiamo le grafiche è semplicemente andare diciamo a costruirlo questo puzzle poi ovvio che è capitato che io ho mandato anche come venisse fuori diciamo questa cosa come dire il post come poteva venire fuori e molti voi dicono vabbè c'è una cosa che ti dico già è pronto lo pubblico già così però era quella lì la prova con insomma tutte le linee guida eccetera eccetera vabbè questo per dirvi che comunque Instagram ragiona su righe di tre post non è un social network appunto molto sociale diciamo così lì è bello da vedere le foto le grafiche i contenuti ma non c'è nulla da condividere piuttosto che da interagire certo puoi interagire puoi dire a me puoi pubblicare quello che vuoi il tuo commento la tua frase però realmente non c'è diciamo un modo come Facebook per interagire infatti puoi andare invece su un profilo Facebook anche della chiesa stessa così così vediamo le stories ok aspetta a che siamo qui per un ottimo su Facebook negli ultimi anni ha messo anche l'opzione copertina Facebook che dà un po' l'intestazione della nostra pagina della nostra diciamo o persona o azienda è ovvio che tutte le pagine Facebook del ministro Sabaoth hanno la parola dell'anno nei nostri profili personali sicuramente lì si può mettere quello che si vuole un'immagine libera però attenzione sempre all'inquadramento delle scene questa qui vedete questa qui è un'immagine rettangolare quindi se voi prendete un'immagine quadrata e lo volete mettere lì dentro lo potete fare ma attenzione che vi taglia cioè non potete deformarla e mettere tutta lì dentro bisogna cercare o che un'immagine sia quadrata ma che il contenuto che volete visualizzare sia al centro e non sia diciamo nel quadrato vai in basso vedete qui c'è molta più interazione rispetto è come se fosse quasi un sito internet quindi c'è la possibilità vai giù di lasciare le recensioni c'è l'indirizzo c'è la condivisione del post c'è il video con i commenti anche lì puoi vedere i commenti e puoi fare commenti su Instagram però qui sicuramente è un po' più interattivo si può interagire un po' meglio tra l'altro aspettate un attimo ecco qui per esempio se pubblichiamo questo qui sono post collegati a Instagram perché adesso la cosa che si usa a fare e che vi consiglio di fare chi ha Facebook e Instagram è il collegamento dei due profili perché una volta che si fa la pubblicazione su Instagram in automatico ti va a pubblicare anche su Facebook senza dover fare le doppie pubblicazioni ma dice ma perché devo avere due pubblicazioni per lo stesso motivo che dicevo poco fa perché se abbiamo un contenuto che vuole rivolgersi al target massimo cioè la persona da conquistare o da parlare di Gesù io voglio farlo sia attraverso Instagram che attraverso Facebook quindi con un click diciamo va in entrambe le piattaforme e così abbiamo il post condiviso va invece nel come dire in immagine profilo così faccio vedere anche le stories ecco questa qui vedete vedete sopra che scorrono delle lineette sopra che vanno a tempo qui sopra queste qui sono uno due tre quattro cinque sei stories e vedete che l'immagine è rettangolare ok queste cose sono immagini rettangolari che sono solo per le stories e questo qui ha lo scopo di quando si è col cellulare adesso anche addirittura anche Whatsapp io l'ho scoperto pochissimo tempo fa perché non sono diciamo appassionato di Whatsapp e di chat ma questo è un'altra cosa però su Whatsapp c'è anche la possibilità di pubblicare stati con stories anche Whatsapp si è adeguato a questa a questa roba qua bene quindi detto un po' tutto questo diciamo tutto questo che ho un po' diciamo corso su alcuni concetti che potrebbero forse sicuramente essere un po' più profonditi ma non è facile se qualcuno ha delle domande su alcuni aspetti che ho trattato velocemente dica pure così li vediamo avete dei dubbi oltre cioè ho delle domande oltre a quello che io vi ho detto anche cose che non c'entrano neanche quello che ho detto io altre cose io ho problemi con Instagram per quanto riguarda il tenere diciamo aggiornato le fotografie che magari vado a pubblicare magari riesco a metterle sulle stories ma non me le va a catalogare all'interno cosa devo fare dov'è che devo andare a cambiare l'impostazione allora faccio una cosa vedete questo qua è il mio profilo Instagram ok vedete che qui c'è un post con tre immagini collegate e qui qui ci sono anche tre tre post qui c'è l'Italia prega per Brescia l'Italia in generale al centro l'Italia prega per Bergamo e altri post insomma sotto così ok che succede io ho esattamente 66 post 66 un multiplo ecco io adesso non voglio poi entrare però vi spiego anche questo 66 un multiplo di tre ok è ovvio che se io pubblico domani una foto una una mi sfasa tutto quello che c'è sotto quindi è ovvio che l'idea è pubblicare non dico post a tre a tre ecco vedete questi qua per esempio questo qua è un film di Kubrick ok e c'è questo post qui che è un'immagine intera con tre con tre post lì poi c'è la seconda fila ci sono tre opere d'arte di De Chirico di Van Gogh di cose a me piace tantissimo quindi vabbè dire che lo chiamano così la terza fila parla di pre Bergamo al centro ho messo Italia perché è un post generico e poi c'è Brescia e poi giù diciamo hanno c'è vari post e varie foto cosa vuoi se io domani o adesso pubblico un post quello che c'è sotto sfasa tutto per rimettere di nuovo tutto in linea devo pubblicare subito altre due foto che mi va poi a far vedere quello che c'è sotto quindi il post singolo dopo che hai avuto un ordine precedente ti sfalsa un po' tutto quello che c'è dopo quindi forse è questo quello che tu non riesci ad allineare per pubblicare infatti qual è poi il giochetto è cancellare le foto per poi metterti a posto con l'allineamento infatti Milano è stato un periodo che aveva un sacco di compleanni l'anno scorso durante il periodo di Pasqua doveva fare gli auguri quindi pubblicare le foto per non dispiacere al team apostolico che giustamente dovevo farsi gli auguri però c'era la campagna di Pasqua in mezzo quindi che facevano pubblicavano il post poi lo cancellavano poi lo mettevano nelle stories perché se no sfasava poi tutto diciamo il mosaico poi su Instagram vedete qui io posso cliccare? no vedete per esempio nel vai su pensieri per esempio ecco aspetta no non cliccare qui ci sono tutte le stories che noi facciamo su Instagram possono essere racchiuse in un contenitore perché le stories è vero che sono visibili per 24 ore però si possono raggruppare possono essere anche visibili anche non solo 24 ore ma per sempre se voi cliccate nel mio qua pensieri queste qua sono tutte le stories che io ho pubblicato che parlano diciamo di frasi miei che dico durante durante così che sono delle stories che io pubblico che le ho racchiuse tutte insieme se voi oggi provate a creare una roba del genere lì troverete tutte le stories passate cioè lì ve le trova se voi avete una stories passata che avete detto oddio quella lì era bella quella stories lì peccato che non ce l'ho più se andate a creare sul vostro profilo Instagram dove c'è il tasto più lì troverete chiudi questa qui scusa ma sul tuo profilo invece sul tuo così vediamo ok ecco il passato delia sopra ha per esempio use conference e lì ha raggruppato delle stories se domani per clic ecco queste qua che tra l'altro c'è soltanto una quindi non è un raggruppamento però potrebbe crearne altri ma lo fa da cellulare non dal computer e ne crea altri altra cosa che vi consiglio di fare che il pastore delia farà appena finiamo questo incontro mettere una brevissima biografia sopra dove c'è scritto lì delia lì si può potrebbe mettere pastore delia delio di sabato ad esempio vai nel profilo del pastore Rosalind così capiamo un attimo vedete pastore senior globale della sabato church eccetera eccetera e l'hashtag perché all'interno del profilo c'è l'hashtag io l'hashtag di mio ovviamente ho messo il mio nome però realmente puoi mettere una frase puoi mettere quello che è e anche lì sotto lei ha creato questi contenitori di stories che sono Toscania Natale Italia eccetera eccetera quindi sono tutte cose che lei ha raggruppato trovando di nuovo invece l'ultima volta nel tuo profilo personale nella tua bacheca così vedremo dopo che il pastore Dele ha pubblicato il mare ecco lei ha pubblicato tre post giustamente che hanno a che fare con il mare giustissimo perché dopo i tre post appartiene a Gesù lei a sua volta ha pubblicato altri tre post del mare quindi c'è diciamo siano allineate di nuovo le cose adesso lei ha con la diciamo con la testimonianza di domenica ha sfasato ovviamente quello che c'è sotto quindi per far vedere di nuovo bene tutti i post di sotto dovrebbe pubblicare altre due foto o comunque sia che non è detto che deve farlo subito però per affinché i post di sotto vengono di nuovo allineati con ordine ci vuole un po' di passeggio e trovare altri due contenuti da pubblicare altra cosa non che tu dicevi per esempio l'Italia appartiene a Gesù voi lo vedete così proprio perché in questo momento a me mancano le due foto per fare in modo che questa qua si sposti qua qui avrò le due foto nuove da pubblicare e quindi questo qua l'Italia appartiene a Gesù ritorna tutti e tre sulla stessa linea esatto questo che non è la sua volta ritorna tutte e tre sulla stessa linea è quello quando lui prima diceva che che bisogna pubblicare diciamo con un po' di cognizione di causa perché altrimenti se io pubblico pubblicavo le tre grafiche l'Italia appartiene a Gesù però io non cioè non erano tre quindi che andavano a prendere una linea praticamente non veniva il giochetto completo della nuvola del disegno con la nuvola ok il problema non è comprendere questo ma per me il problema è fare proprio il posto di per sé perché riesco a fare la storia devi pubblicare un post alla volta pubblicando un post nel momento in cui tu hai capito quali sono le foto che vanno in ordine ovviamente il primo è l'ultimo cioè il primo post sulla sinistra è l'ultimo che devi pubblicare perché poi va alla fine quindi il primo post è il terzo quindi la nuvola piena il secondo vedendo quello che c'è al centro il primo sarebbe quello che pubblichi alla fine questo è l'ordine cioè non devi pubblicare tutti e tre le foto nello stesso post devi pubblicargli un post una foto per ogni post questo verrebbe più facile diciamo poi visto ovviamente con ma ci sono domande tipo finora per quanto riguarda la differenza tra un post e una stories cioè è chiaro la differenza tra un post cos'è un post e cos'è una stories è chiaro per tutti è chiaro quello che non ho che non ho ben chiaro io personalmente chiedo scusa è come fare proprio il post nel in instagram perché non riesco a postare non riesco proprio a metterlo nel mio profilo allora pastorelia vai ti autorizzo ad andare nel profilo instagram di claudio mi dai la password per entrare aspetta no 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 lo cerchi lo cerchi sto scherzando nel senso cercalo lì così capiamo un attimo così seguito è single e siamo al post allora questo post che tu hai pubblicato l'ultimo post che tu hai pubblicato allo stesso modo come hai pubblicato questo devi pubblicare anche le altre però attenzione vedi che hai quattro post tu qui tu hai raggruppato più foto nello stesso post nel caso dell'Italia a partire a Gesù è una singola foto per ogni post in questo caso qui io ti consiglierei o pubblichi altre due foto a caso di te in posa o di paesaggi o di quello che vuoi così vai che quindi ci sono due spazi bianchi qui sotto tu vai a riempire questo post qua quindi ti riempi ti metti a pari tre e tre e poi inizi con la sequenza di tre post qui ci sono il problema è proprio non ricordo più come li ho postati forse me li hanno postati questi tu li hai fatto esattamente qui sotto guarda qua qui sotto se mi vedete c'è il tasto più non puoi sbagliare aspetta non ti vedo dove è che sei questo qua è la pagina ok sì ok qui sotto c'è un tasto più ok ok da lì più e qui ci sono tutte le fotografie che tu hai sul tuo iphone ok basta ti scegli la terza poi la seconda e poi la prima ok perfetto ora ho compreso ragazzi che dubbi avete sui social ora facciamo domande meno tecniche che dubbi avete sui social cosa vi spaventa dei social o cosa non vi piace dei social val a me proprio non mi piace i social non è che non sono capace se mi impegno ci vado mi metto ma non mi piace il contatto a me piace il contatto fisico ma neanche il telefono la telefonata come sta non mi piace non ce n'è da fare non è una questione di giovani vecchi è proprio per me è una pezza di tempo non è un divertimento come posso spiegare è una cosa proprio che mi dà fastidio non è la mancanza della privacy o la mancanza di questo proprio i social mi stufano come mi stufa la televisione tanto per dare un'idea mi stufa forse ho fatto troppo tempo a lavorare a computer stare davanti a un computer hai capito non è un problema di non sapere a usarlo perché se mi metto lì di buon animo mi piego ma proprio non mi piace per me è perdere tempo questa ecco sicuramente fa parte di quelle cose che non è che ti può entrare che deve per forza entrarti in testa è una cosa geniale ma ci mancherebbe ovvio che c'è gente che ha il rifiuto per esempio io ho il rifiuto per la bicicletta ecco più o meno così perché devo sudare devo pedalare per andare da una parte all'altra prendo il computer o il mezzo o vado chiamo qualcuno che mi accompagna e ci vado ma sudare fare le salite stare male no oppure chi va a correre per me ha problemi insomma non lo so terrone non ci mancherebbe però ecco il mio sprono anche di questa sera è questo chi decide o comunque chi ha questa diciamo ecco io per esempio ecco io non sopposto andare in bici non voglio andare in bici ma riconosco che chi lo fa davvero è una cosa straordinaria che ha una forza e che si tiene in salute e che gli fa tanto bene io credo che i social oggi non siano un demone non siano un problema i social oggi sono la parte integrante di una comunicazione attiva e quotidiana e reale che dovrebbe essere diciamo almeno conosciuta in maniera basilare anche perché come diciamo gli dicevo con il pastore Delia realmente senza i social in questo periodo di quarantena molte cose che abbiamo giovato e visto e goduto non ne potevamo farli potevamo starci nella mente a casa di mia moglie finché non ci lasciavamo cioè i social ci hanno aiutato a distrarci a concentrarci a fare anche cose belle che è una predica che è una direzione dimmi dimmi ecco no onori quanto a quello giustamente anche perché da buona brasiliana l'unico mezzo di comunicazione da vedere miei è sempre tramite o Whatsapp o Facebook le notizie le cose hai capito che ciò forse è l'usare troppo per me che sono arrivata a un punto che è come dici te la bicicletta a me non mi dà nessuna soddisfazione hai capito lo sopporto perché so che è utile in questo momento poi per i gospel per tutto sopporto sto lì vado a vedere ma che mi piace sono sincera no posso aggiungere qualcosa a quello che ha detto Val sì vai vai mi sento di dire che amo con tutto il mio cuore Val in questo momento per quello che sento perché ho finalmente trovato un'amica che ha descritto esattamente quello che penso anche io nel senso non sto demonizzando mi è piaciuto molto quello che hai detto tu onorio prima del demonizzare perché è vero tante volte sembra di demonizzare nel senso di dire c'è soltanto del male io credo che le persone come te che hanno questo grado di come posso dire di conoscenza ma anche di sensibilità nell'utilizzare il social vadano benissimo e io non per esempio non demonizzo il social anzi io credo che per alcune persone per quelli che lo sanno utilizzare bene e per quelli che sono appassionati come lo sei tu sia uno strumento fantastico non sono contro i social se devo essere sincero se parliamo per esempio dei cinque linguaggi dell'amore ok il mio non è sicuramente il social nel senso se io per tutto il giorno sono davanti alla televisione scusate la televisione spero di non dover essere davanti alla televisione tutto il giorno se non sono davanti tutto il giorno ho uno schermo e icone di qua icone di là e a destra e a sinistra e le mail e ti arriva tutto questo passare il mio tempo quando posso fare altro a vedere delle scarmate con delle notifiche delle cose a destra a sinistra io personalmente non mi sento minimamente attratto da questo tipo di cose tutto qua non è assolutamente il mio sono assolutamente d'accordo che siamo nel 2020 e le persone devono essere in grado di utilizzare ed è anche per questo che io sono qua in questo corso non sto demonizzando ma non mi sento attratto e personalmente io ho modi diversi di rapportarmi alle persone e e trovo che per esempio anche il mio modo di condividere la mia fede lo trovo difficile che un giorno sarà davvero con Facebook con con questi social pur non negando il fatto che siano stati concepiti per comunque dei motivi anche assolutamente sani e per chi a chi piace e chi li sa vuole utilizzare in maniera sana lo può assolutamente fare adesso mi rimetto in muto grazie Val grazie mille io ti voglio troppo non aspettavo di avere un assist migliore per fare questo intervento quindi grande assist di brasiliano allora io sono perfettamente d'accordo anche con te nel senso non credo che debba essere una pratica dovuta da tutto il mondo cristiano credo che il mondo cristiano che è la pratica deve farlo in modo eccellente ma perché la comunicazione fatta sui social deve essere lo specchio di persone che amano Cristo e lo fanno in maniera che influenzano non che devastano perché c'è gente che anche nel modo di comunicare è convinto di comunicare in modo guidato dallo Spirito Santo in maniera poi però magari ma che pesantezza io arrivo ogni giorno con la sua colomba in bocca c'è un mazzolino di olivo che dice la pace del Signore secondo te tutti i giorni sta cosa dico no però dico piuttosto farlo in un modo un po' diciamo più ecco quindi per chi lo fa e per chi usa i social lo scopo è farlo in maniera diciamo eccellente in maniera diciamo diciamo professionale ecco ma non perché perché là fuori c'è tanta gente che comunica di tutto comunica omosessualità comunica razzismo comunica di tutto e lo fa in modo veramente che influenza e che influenza gli altri tutto qua vai a mira sì